Il primo pluridonatore di organi in Puglia avrebbe compiuto 50 anni Paolo Davide Di Martino. Il 16 settembre del 1990 morì in un incidente stradale. A Trani adesso c'è una via intitolata alla sua memoria. Serve a ricordare un giovane che aveva fatto dell'altruismo una ragione di vita, ma non solo. La vita è fatta di amore. E l'amore che cos'è? Non è altro che donare. Donare significa amore. E lui ha donato non per continuare la sua vita, ma ha donato per amore. Sempre più diffusa la cultura della donazione degli organi sul territorio, oltre ai 150 dall'inizio dell'anno, i prelievi di corne, per esempio. Quando il consenso non è manifestato dai pazienti in vita, arriva dai loro familiari quando viene comunicata la morte cerebrale irreversibile. Lui voleva la donazione degli organi e io inizialmente non ero d'accordo, devo essere onesta. Però poi ho pensato all'altruismo come era altruista mio figlio e ho detto no, devo accontentarlo. Non devo pensare al mio egoismo di mamma, che non volevo che mio figlio fosse toccato. Però poi man mano camminando per tanti cammini che ho fatto, ho capito che è stata la cosa più bella che potessi fare. Mi avevano proposto, mi avrebbero comunicato a chi erano andati gli organi, ma io non ho voluto, di mia spontanea volontà, perché ho pensato proprio all'altruismo di mio figlio, che lui donava senza che nessuno sapesse niente.